E' curioso come sono nate le giornate del cinema muto. Nel lontano 1980, molto lontano, nessuno di noi voleva inventare un festival perché non ci siamo mai messi a tavolino dicendo che festival facciamo. Eravamo semplicemente curiosi di conoscere Max Linder. Io avevo letto nel dizionario del Sadull che Charlie Chaplin considerava Max Linder il suo maestro. E siccome di questo Max Linder non si era visto praticamente nulla, però se Chaplin lo considerava un suo maestro, un suo punto di riferimento, deve essere stato un autore non banale. E per due anni abbiamo tempestato la Cineteca del Friuli chiedendo di mettersi sulle tracce di filmati di Max Linder per vedere quello che Chaplin considerava come suo maestro. E il buon Livio Jacob e Pierre Patat dopo ben due anni di ricerche in giro per il mondo scoprono un collezionista argentino che ha qualche ora di cose di Max Linder che unite alle altre cose che avevano trovato a Parigi in giro per altre cineteche, erano riusciti a mettere in piedi un pacchetto di sette ore di filmati di Max Linder. Moltissimi suoi lavori purtroppo sono andati perduti. Una volta messo assieme a questo pacchetto di Max Linder abbiamo chiesto a dei nostri amici, anche loro curiosi, se volevano venire a Pordenone per vedere questa retrospettiva che in qualche modo rappresentava anche un'anteprima, erano cose poco conosciute. Perché fino ad allora le storie del cinema venivano scritte non vedendo i film degli albori, ma leggendo. Per cui se uno scriveva qualcosa di errato, questo errore veniva poi riportato nelle storie successive. E a questa prima edizione, a questo primo omaggio a Max Linder arrivarono quei sette, otto critici e giornalisti molto curiosi di vedere il cinema di Max Linder. Una volta scoperto che veramente Max Linder era un grande, una delle sue gag, quella dello specchio rotto, in cui il fidanzato della cameriera fa da immagine riflessa ad uno specchio inesistente. E' una gag che poi hanno ripreso anche Stan Laurel e molti altri. E sono rimasti talmente stupiti dalla bellezza nel rivedere queste comiche che ci hanno chiesto ma fate un omaggio anche al prossimo anno a qualcuno del periodo muto. Perché rivedere o vedere per la prima volta il cinema delle origini è veramente qualcosa di istruttivo. E da lì sono nate le giornate del cinema muto. Lì ha preso avvio questo festival che in qualche modo ha riscritto anche pagine di storia del cinema di quel periodo. Una di queste riscritture ad esempio riguarda il film di Murnau, L'ultimo uomo, Der Letze Mann. La storia di questo uomo che fa il portiere in un grande albergo, lui in divisa. A un certo punto viene licenziato ma non riesce a metabolizzare questo licenziamento e continua ad uscire da casa in divisa per andare a un lavoro che non ha più. Questo film era considerato uno dei rari esempi di cinema muto senza didascalia. Ma grazie a Bert Heller, questo direttore d'orchestra, il quale trovò alla Cineteca di Berlino Est la partitura del primo accompagnamento al film, all'anteprima a Berlino negli anni venti. Ha notato che c'erano segnate le pause in cui apparivano le didascalie. E allora ci siamo messi alla ricerca delle didascalie e le abbiamo trovate alla Cineteca di Praga per cui grazie poi alla partitura sono state reinserite esattamente al loro posto. e abbiamo presentato a Pordenone il film della versione esattamente come l'aveva licenziata il regista. E questo è uno degli esempi di riscrittura della storia del cinema. Sempre dovuti a questa curiosità nel voler andare a fondo, nel voler vedere il cinema, perché il cinema più che scritto va visto. Quando abbiamo dato la retrospettiva dei film del babbo, Roberto Roberti, che era stato uno dei registi preferiti da Francesca Bertini, Sergio Leone venne a Pordenone perché non conosceva il cinema del padre, ne aveva solo sentito parlare nei racconti del genitore, ma non aveva mai visto i film. e in sala scoprì che in un western che aveva genato suo padre sulle sponde del Po, allora il cinema si produceva a Torino, vide un'inquadratura della mamma vestita da donna indiana e davanti a questa immagine si commosse talmente che arrivò alle lacrime. Sergio Leone era assolutamente una persona amabile, adorabile ed estremamente anche lui curiosa nel voler vedere e comprendere il cinema. Questo è stato uno dei più belli incontri che le giornate del cinema mutuo hanno fatto nel loro percorso e quest'anno festeggeranno i 40 anni di vita. Grazie per la visione!